buon pomeriggio amici di panorama italy rieccoci in diretta amici questo pomeriggio ragazzi dalla bellissima borgata di mondello guardate che spettacolo guardate che giornata ciao giusi amica mia subito collegata subito in diretta buon pomeriggio buon pomeriggio amici giornata meravigliosa qui a palermo siamo circa sui 13 gradi in questo momento temperatura perfetta per fare una bella passeggiata ragazze ne vedono un po di mare ne ascoltano un po il suono del nostro mare di sicilia andiamo da quella parte in direzione charleston ciao giusi un saluto scendiamo di spiaggia ragazzi scendiamo subito e spiaggia salutiamo ovviamente anche tutti gli amici che rivedranno il video dopo quindi un saluto anche a voi c'è anche questa luna ragazzi guardate a quest'ora di pomeriggio incredibile bella 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 mondello soprattutto con questo bel tempo insomma dopo questi giorni un pochettino cupi dove anche piovuto a parte ieri diciamo che finalmente si torna alla normalità saluto in che giusi li fatti ciò giusi la fatti scusami e tutti gli altri amici che si stanno già collegando siamo in riva al mare ragazzi a mondello questa è un'immensa spiaggia devo dire che c'è poca gente mi aspettavo più gente questo pomeriggio salutiamo salvo rosa nero ciao salvo e ovviamente mandiamo un saluto ai nostri agli altri amici dello staff che in questo momento non sono collegati a parte giusi il nostro mimo anthony giovanni ovviamente ciao giorgio un saluto ci vediamo dopo al lavoro salutiamo anche giorgio e salutiamo anche giuseppe shortino ragazzi andiamo in direzione charleston guardate che mare che c'è fatemi sapere se c'è qualche problema di collegamento se si vede bene finalmente un po di sole sì sì salutiamo anche alla nostra sandra williams ciao sandra good morning salutiamo anche leonora giannotte ed elisabetta prestigiacomo da parma ciao elisabetta ragazzi andiamo in direzione charleston c'è questo bel sole insomma si sta bene siamo sui 13 gradi come dicevo prima e insomma approfittiamo di fare questa bella passeggiata pomeridiana siamo in un orario un po inedito quindi ovviamente tanti amici lo rivedranno dopo il video salutiamo anche vincenzo cirrito eh sì giusi bellissimo è dire poco salutiamo anche davis sequinio e ovviamente ragazzi stasera poi torneremo in diretta anche con mimo quindi poi ci rivedremo stasera sempre su panorama itali vediamo dove andiamo so che l'albero al politiamo lo stanno finendo di sistemare quindi probabilmente stasera potremmo andare di nuovo al politiamo in zona centro così andiamo a vedere l'opera completa per quanto riguarda gli addobbi natalizi a palermo salutiamo anche lucia scu e francesco paolo arena ciao amici avviciniamoci un po di più al mare c'è qualche conchiglia giusi sono piccoline però ci sono salutiamo anche liana pannocchi ciao liana magia pura ragazzi un po d'aria di mare prima poi di tornare al lavoro troviamo anche la mia amica silvana che ci segue da sferra cavallo ciao silvana e rocco zagarella bella panoramica da quella parte del bellissimo charles non stiamo andando proprio in quella direzione ragazzi arriveremo fino alla piazza quindi seguitemi vi raccomando lasciate un like al video soprattutto oggi da questa parte è brutto tempo non sono conchiglie allora forse l'ho confuso con delle conchiglie giusi salutiamo intanto anche al nostro giovanni busalacchi ciao giovi ci vediamo presto in diretta anche con giovanni andremo a fare tante belle foto in centro ci mettiamo anche anna tiscione e la mia amica sandra che dice spettacolar view ciao maddalena faraci e valentina zacco insomma stanno collegando tanti amici mi fa piacere nonostante l'orario un po inedito ci mettiamo anche rosa marceca e linda polizzotto chissà dove è ntoni giusi sicuramente starà lavorando ah ti seguo dal problema scusa silvano scocci sono visti a sferracavallo pensavo che eri a sferracavallo che spettacolo ciao gaetano amico mio come va in francia fatemi sapere anche come va fuori ragazzi qui siamo sui 13 gradi giornata bellissima salutiamo peppe shortino e manolino sa guttiere dalla spagna nostra bellissima mondello ragazzi andiamo 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 nel frattempo ragazzi vi ricordo di iscrivervi anche al nostro nuovo canale youtube quindi vi raccomando sono delle vongolini non lo sapevo giusto sembra una delle conchigliette invece ma comunque ragazzi valentina quando arriva l'estate spero presto comunque dai tutto sommato guardate la giornata è bella a sferracavallo ci vediamo in estate ok a posto siamo a 6 gradi dai gaetano meglio di niente insomma dai ragazzi oggi c'è un po di sole finalmente si è tornati alle nostre belle passeggiate in riva al mare ieri siamo stati a terrasini siamo stati a cini abbiamo fatto una bella diretta al mercato storico di ballarò di pomeriggio e poi siamo stati in centro storico oggi invece faremo ragazzi mondello adesso stiamo facendo e poi stasera andremo ancora in centro perché stanno ultimando l'albero che stavano allestendo ieri al politiama eh sì ragazzi il mare è stupendo oggi un poco poco agitato c'è poco vento tutto sommato si sta benissimo e insomma c'è anche lì un elicottero un aereo facciamo anche l'oredana mira antonio zimbardo ciao antonio c'è anche una bella luna ragazzi guardate non so se si vede bene in diretta però c'è anche una luna lì ma no lì siamo a mondello ragazzi siamo a mondello borgata marinara di palermo salutiamo anche madonna della versana cinzia teresi ciao amiche andiamo da quella parte salutiamo anche davide raie daniela mazzola ciao danni buon pomeriggio ragazzi oggi dovevo andare a monreale però causa lavoro non siamo potuti andare spero di poter andare presto comunque un appuntamento che lo faremo nei prossimi giorni sicuramente salutiamo anche analisa citro lucia scuola e tizia ienna un abbraccio a voi saliamo lì ragazzi a vedere il charleston da vicino ciao davide saliamo anche davide raia grazie davide e annacitro bellissima mondello grazie saliamo anche teresa battaglia insomma si stanno collegando tanti amici capisco che l'orario è un po scomodo perché magari c'è chi lavora c'è chi magari sta sbricando alcune faccende pomeridiane qui in belgio abbiamo otto gradi senza sole si è vista bellissimo ah si è vista bene meglio così saliamo anche tiziana spina ciao tiziana e genoveffa fasano tanti abbracci a palermo a sassuolo ciao rosa a sassuolo ci sono tanti palermitani o comunque siciliani che ci scrivono sempre troviamo anche il nemico chetano bargione mandiamo un saluto ovviamente anche a entoni giusi che dici lo mandiamo un saluto a entoni mandiamo un saluto al nostro a entoni che stamattina ha fatto due piccole live dall'auto in svizzera e mi ha fatto morire di freddo ragazzi perché lì già c'è la neve c'era un po di nebbia addirittura stamattina antico stile liberty stile liberty costantino salutiamo anche a ivana falsone ciao ivana di preciso ragazzi l'anno non lo so quindi non voglio dire una bugia salutiamo anche a mario tarantula ciao mario come va buon pomeriggio buon pomeriggio anche al mio amico mario tanto provo a farmi il pacco al più tardi per lunedì così arriva nell'anno nuovo si gaitano cercherò per lunedì perché lunedì poi sono libero quindi cercherò di spedirti il pacco proprio lunedì ultimerò il pacco lunedì ma cercheremo di spedirlo in tempo salutiamo anche ivana falsone paola spagarino salutiamo nicola balsamo da carini nicola siamo stati a carini la settimana scorsa ho fatto un bel video non vedo la di tornarci abbiamo conosciuto però il nostro amico antonio zimbardo e quando scende eh lo so entoni penso che non prima dell'estate ragazzi forse a maggio riesce a scendere dalla svizzera facciamo qualche live insieme salutiamo anche tiziana spina cediziana eccoci qua ragazzi siamo di fronte al charleston questa è tutta la strada che abbiamo appena percorso ma io ci ho avuto il pace di cenare al charleston il posto incantevole ragazzi salutiamo anche simona landolina buon pomeriggio saliamo ragazzi saliamo dopo la scala andiamo a vedere il charleston più da vicino vi ricordo ragazzi di iscrivervi su youtube vi raccomando vi aspettiamo su youtube presto trasmetteremo anche da lì quando vieni di un baccarini nicola spero spero presto diciamo che prima abbiamo un po di tappe perché dobbiamo andare ancora a monreale dobbiamo andare ad altavilla milice insomma dobbiamo andare a visitare tanti piccoli paesi della nostra provincia sono comunque bellissimi e quindi poi torneremo ovviamente anche la allora allora intanto il nostro giovanni ci scrive anche di preciso anche la storia del charleston la realizzazione del progetto fu affidata all'impresa di giovanni rutelli che riuscì a costruire un edificio resistente all'azione corrosiva dell'acqua e delle salsedine ultimando i lavori nel 1912 ragazzi quindi 110 anni c'è più o meno e fu inaugurato nel 1913 grazie giovi ringraziamo sempre al nostro giovanni ragazzi ovviamente vi invito anche a iscrivervi su su instagram salutiamo gli amici di palma di montechiaro mi ricordo da piccolo affittavo uno spiatoio e poi ammalo era qualcosa di lusso e sì dolota immagino per il periodo palma di montechiaro 19 gradi tutto sommato bene thank you sandra salutiamo la nostra amica sandra salutiamo anche filippa vizzina e margherita e lardi ciao amici in pieno stile liberty sì 1913 inaugurato come ci ha ricordato prima giovanni salutiamo anche tiziana franzone ci vediamo il mare da questa parte e poi passiamo andiamo in direzione la borgata mare come vedete stamattina abbastanza un po mosso però ragazzi niente di chiesa salutiamo anche a mauribiondo siete a 19 gradi a mondo nono gaetano siamo sui 13 sui 13 gradi si sta bene però non siamo in estate ovviamente salutiamo anche cristina noto e tiziana spina no il tramonto ragazzi a dire il vero ancora penso che ce ne voglio un po' salutiamo anche antonella carona e francesca grimaldi passiamo dall'altra parte scavalchiamo da qui nostra bellissima mondello fatemi sapere ragazzi come si vede come si vede come si sente vi raccomando ogni tanto fatemi sapere facciamo ancora una panoramica ragazzi e poi ci spostiamo in direzione alla borgata marinare salutiamo anche amici della croazia ciao anna maria e stefania marinelli ciao stefi a palma c'è più caldo si antonio antonio sicuramente stamattina si salutiamo anche francesca grimaldi c'è un bel cielo azzurro si ghetta non c'è neanche una nuvola ragazzi guardate spettacolo usciamo da questa parte salutiamo anche a maddalena della versana alcuni hanno la passione di tuffarsi così come sì alcuni si ragazzi alcuni si tuffano anche da lì adesso usciamo da qui ragazzi adesso il ristorante sicuramente sarò lusso una vera maggiore come dice giusto assolutamente sì salutiamo anche l'elenia pappacoda ciao stefania c'è un bel sole guardate c'è qualche nuvoletta ragazzi però nulla di che buon pomeriggio che a te riesco a vedere la mia amata mondello ciao tiziana grazie 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 vi raccomando tiziano condividete la diretta cliccate sul tasto condividi ragazzi ci aiutate a promuovere il nostro territorio salutiamo anche maria tarantino lucia scu bene si vede si sente ok nel frattempo da frattamino provincia di napoli ciao bea un saluto e manuela stella ragazzi stasera cometta andremo in centro con il nostro mimo ciao mimo un saluto vediamo se si unisce anche giovanni alla passeggiata così facciamo qualche bello scatto al teatro massimo il centro storico finalmente addobbato a festa ah ok maurizio spettacolo meglio di così non si può faccio un'altra panoramica da qui ragazzi e poi ci spostiamo in direzione della piazza fratta minore sì andalena scusami guarda c'è pure la luna ragazzi oggi pomeriggio non ci manca niente c'è la luna sopra il charleston non so se si vede bene ragazzi spero di sì questo sono io vabbè un pochettino spettinato salutiamo anche Orazio Laurenzerillo ciao salutiamo anche Enza Prestigiacomo e Jumbo Screen ciao Jumbo andiamo da quella parte ragazzi andiamo a vedere la piazza di Mondello eh sì ragazzi c'è si sente non so se state sentendo anche lo scruscio del mare come dicevano lo scruscio romari si sente abbastanza bene oggi pomeriggio perché c'è poco c'è anche poco traffico vede passa qualche macchina ogni tanto la spiegia è completamente libera ci sono solamente vedete lì in fondo c'è chi fa canoa vedete abbastanza tranquillo salutiamo anche il mio amico Stefano Caruso ciao Stef salutiamo anche Mary Catano Francesco D'Arrigo e Giuseppe Mangano ciao andiamo da questa parte ragazzi andiamo a vedere la piazza da qui la sera ragazzi ovviamente abbiamo fatto tante volte le dirette abbiamo visto la bellissima piazza il bellissimo le bellissime luci di Mondello che si rispecchiano sull'acqua che è davvero uno spettacolo incredibile salutiamo Dac Messina che ci dice ti invidio da tanto va ciao ciao amico mio salutiamo Mario Vassallo ciao eh sì Silvana purtroppo ancora non hanno inventato quest'app che fa sta cosa che permette questo penso che in futuro lo inventeranno sicuramente comunque andiamo da quella parte ragazzi andiamo in direzione della piazza salutiamo anche Domenica Pedone ragazzi vi ricordo che di tanto in tanto Facebook vi fa arrivare la notifica di inviare delle stelle gratuite alla pagina potete cliccarci e ci date un supporto in alternativa potete anche acquistarla cliccando nel tasto a forma di stars salutiamo anche Gemma Croce ciao Gemma guardate questa parte ragazzi spettacolo bella 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 ragazzi avviciniamoci anche un po' al mare dai scendiamo in spiagge salutiamo anche Viterbo Giussi Antonino Are a Iena ciao Antonino andiamo 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 questa parte del Charleston l'abbiamo appena visto salutiamo anche Rosaria Pellegrini ciao Stefano grazie stupenda giornata ragazzi abbastanza si sta bene 13 gradi ragazzi 13 gradi pomeriggio incredibile si Stefano oggi pomeriggio solo soletto ragazzi mi godo il mare salutiamo anche Silvia Forlín ciao Silvia salutiamo anche Antonino e Dorotea Sardisco grazie ragazzi vi racconto taggate degli amici soprattutto ragazzi lasciate un mi piace alla pagina Panorama Italy per continuarci a seguire stasera come detto ragazzi probabilmente torneremo in centro storico perché nel frattempo hanno stanno concludendo anche l'albero che che avevano iniziato ieri al Politeama quindi andremo anche a piazza Politeama penso che la diretta inizieremo da lì e poi ovviamente andremo fino ai quattro canti che c'è l'altro albero fino a poi in cattedrale quindi vi aspettiamo anche stasera vi raccomando vi aspetto in tanti penso di poterla fare intorno alle ore 23 la diretta che prima ovviamente lavoro quindi vi aspetto poi in diretta più tardi quindi vi raccomando ragazzi lasciate un like alla pagina in modo che così potete continuarci a seguire grazie Mario salutiamo anche Emanuela D'Amico Stefano Giancarlo e Gloria Celebre grazie Maddalena grazie per la condivisione grazie a tutti e questo è la spiaggia ragazzi in questo momento non c'è tantissima gente c'è qualcuno così e colì però insomma non c'è grossi affollamento salutiamo anche Emanuela D'Amico c'è Emanuela ho avuto una giornata lavorativa siamo mercoledì in mezzo alla settimana penso che al fine settimana se continua così al mattino c'è ancora più gente salutiamo anche il mio amico Ghetano Vitale c'è Ghetano c'è chi pratica sport ragazzi vedete un scuscio romale ragazzi beautiful place scrive la mia amica Sandra ciao Sandra amica mia un saluto un saluto a te ci vediamo anche Giuseppe Fantascio e Giacomo Arcoleo ragazzi ovviamente vi ricordo anche di iscrivervi nel nostro gruppo Facebook Panorama Italy per continuarci a seguire anche lì adesso andiamo da quella parte ragazzi andiamo a chiudere in piazza ciao Vincenzo grazie grazie Steph un scuscio romale ragazzi salutiamo anche il mio amico di Torre del Greco ciao amico mio un saluto sempre in prima arena ragazzi sto qualche secondo in silenzio così ascoltiamo meglio Emanuella c'è un po' di freddo diciamo siamo sui 13 gradi non c'è proprio freddo però neanche caldo salutiamo anche Antonio Maione ciao Antonio buon pomeriggio alla nostra Sandra Dorotea verremo presto a Monreale salutiamo anche Genova e Fafasano ciao e Marisa Sgroi vediamo anche a Nenzi con camera eh si Mario si diverte eh si Emanuella si vediamo anche a Guido Librizi c'ho Guido guarda la giornata ragazzi non c'è neanche una nuvola spettacolo ragazzi ragazzi rimarrei qui ore ore veramente non scherzo resterei così salutiamo anche la nostra Concetta ciao Conci alziamoci ragazzi salutiamo anche Antonella Trionfante ciao Antonella andiamo da quella parte ciao Giussi buon pomeriggio c'è anche dei bambini che giocano in spiaggia è bellissimo salutiamo anche Marisa Sgroi che ci saluta da carini ciao Maria Olga amica mia un saluto spettacolo 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 Antonello da Salina ciao Antonello abbiamo fatto delle dirette da Salina con il nostro amico Michele Merenda che saluto ciao Michele salutiamo anche Guido Librizi e Marco Alves questa ragazzi è la spiaggia di Mondello ovviamente è gigante abbiamo fatto un pezzo oggi non l'abbiamo fatta tutta però guardate che spettacolo ragazzi giornata incredibile a Palermo salutiamo anche Ezio andiamo da quella parte ragazzi andiamo a chiudere in piazza vi raccomando ragazzi condividete il video e vi raccomando lasciate un like alla pagina scrivete panorama ai ragazzi e cliccate mi piace vi raccomando Guido da Lodi ciao Guido a Lodi farà un po' più freddo di Palermo sicuramente sentiamo anche a Giusellandolina ah ok salutami l'Antonello perché oggi non l'ho sentito quindi salutami al mio amico Michele Merenda farà delle dirette penso nei prossimi giorni ne ha fatta una di recente da Amalfa che è una delle zone di Salina ed è davvero un posto incredibile grazie grazie Emanuela grazie Concetta per la condivisione per nostra sfortuna devi andare a lavorare è vero Giusellandolina se no starei per ore veramente guardate che spettacolo non so se si vede perché non lo vedo io ragazzi è qualcosa di incredibile giornata veramente pazzesca considerate che siamo ormai a metà dicembre e quindi non ce l'aspettiamo neanche noi certe volte queste giornate guardate che spettacolo salutiamo anche Luciana Vieira ciao Luciana odore di mare ciao Maddalena Grazia e salutiamo anche Elisabeth Mastrocola vi raccomando ragazzi lasciate un like al video vi raccomando cliccate tutti nel tasto che vedete in basso a forma di cuore oppure il like normale insomma lasciateci un like al video amici salutiamo anche Franci D'Agostino e Barbara Palumbo andiamo a chiudere lì nella terrazzina ragazzi il mare arriva fino ai nostri piedi salutiamo anche Anna Mignano e a Casale c'è freddo si ragazzi immagino buon pomeriggio ciao Adri buon pomeriggio mare spettacolare salutiamo anche Teresa Ottaviano e Marisa Sgroi sono ragazzi visto che siamo tanti eh c'è maddalena c'è tanto c'è tanto odore di mare qui ovviamente visto che siamo tanti ragazzi arriviamo lì alla terrazzina facciamo una panoramica e poi torniamo in direzione Charles adesso non tanto poi devo tornare per forza da quella parte quindi approfittiamo per tutti gli amici che non hanno visto il Charles sono oggi pomeriggio per tornarci insieme salutiamo anche Ursula di Mercurio e Luciano Bonifazi salutiamo anche Irene Pavanetto e Ivana Parachy guardate che luna thank you Macris d'Alvarez spettacolo ragazzi c'è anche la luna non manca niente oggi pomeriggio ragazzi siamo anche Roberta Scafaro e giù si è Marcello Piccarella viaggio donato insomma ragazzi scusate se dimentico qualcuno nei commenti eventualmente ragazzi scrivete di nuovo che vi saluto tranquillamente a tutti ovviamente lo sapete salutiamo anche Gianfranco Puccio e Gaetano Castelli saliamo da lì ragazzi saliamo da lì saliamo alla terrazzina e andiamo a far una panoramica da lì torneremo anche di sera ragazzi comunque grazie Maddalena grazie di cuore salutiamo anche Katia Lovetere ma si ragazzi oggi pomeriggio mare incredibile è bellissima giornata tra l'altro quindi non potevo che venire a Mondello ragazzi sono anche a due passi da casa fortunatamente quindi comunque mi viene vicino venire a Mondello tra un turno di lavoro e un altro si può fare questa passeggiata anche è rilassante ragazzi anche è rilassante perché comunque chiacchieriamo scambiamo opinioni si parla insomma vi faccio vedere la nostra bella terra non c'è cosa più bella ciao Marcello ciao Giussi saliamo da qui ragazzi andiamo in direzione della terrazzina grazie Emanuella noi ci siamo sempre in diretta Emanuella ti raccomando lascia un mi piace alla pagina per continuarci a seguire in diretta adesso qui ragazzi siamo in direzione della piazza salutiamo anche Katia Lovetere da Misilmeri questa qua è la zona dei locali vabbè la conoscete bene salutiamo anche Ipina Paterno e Rosario Vaglica guardate anche da qui ragazzi a questa terrazzina grazie Emanuella un abbraccio ringrazio tutti gli amici che stanno lasciando un like ragazzi ovviamente siamo anche su YouTube quindi vi raccomando ragazzi iscrivete Panorama Italy su YouTube andate nella sezione canali e da lì ragazzi riuscite ad accedere alla nostra pagina poi cliccate mi piace perché dobbiamo arrivare a 1000 per trasmettere in diretta appoggiamo il cellulare un secondo qui ragazzi guardate il spettacolo ciao Rocco un saluto e ne è stata ancora più bello ovviamente Giusy saluto anche Maria Mary Morgera buon pomeriggio lì l'ha scritta Love Mondello un po' in lontananza stasera la vediamo però ci torneremo presto grazie Sandra Sandra già ci ha scritto su YouTube ragazzi su YouTube la pagina è sempre la stessa ragazzi Panorama Italy scrivete Panorama Italy e ci seguite siamo circa 540 quindi ci mancano 460 amici per iniziare a trasmettere da lì tra l'altro come dicevo già prima su YouTube insomma le qualità video ancora migliore Mimo dice bello scuscio rumore lo so Mimo ci dobbiamo tornare insieme anche qui Giusy che dice qui oggi è una giornata buia questo me la riavviva grazie Giusy amica mia ieri insieme a Giusy abbiamo festeggiato ragazzi 6.000 iscritti nel nostro gruppo Facebook ciao Nancy salutiamo l'amica Nancy Lobosco e di bella Rosalia ragazzi adesso passiamo da questa parte andiamo in direzione Charleston salutiamo anche Tanina d'avanzato Mazzuca grazie Stefano ieri è stato un video per tra l'altro seguitissimo ragazzi io ringrazio a tutti davvero per la preziosa collaborazione siete davvero tantissimi ormai che ci seguite e per me è davvero un piacere mostrarvi il nostro territorio bello meraviglioso si può fare un bel quadro grazie Marisa grazie insomma ragazzi cartolina dalla Sicilia oggi pomeriggio da Mondello quello è il nostro Monte Pellegrino ormai lo conoscete bene Anthony bu non lo so dov'è Mimmo chiamalo facciamo intervenire Anthony Giusy sono anche il mio amico Fabio Refici ciao Fabio come a Malta penso quella qua dai 15-14 gradi andiamo a vedere ancora il Charleston ragazzi poi chiudiamo da lì salutiamo anche Gabella Sor Giacomo e Michele Donati eh sì ragazzi lo del mare ovviamente è qualcosa di incredibile da questa parte c'è un sacco di villette che affittano il periodo estivo tra l'altro ce ne sono anche alcune stile Liberty salutiamo anche la nostra Isa Cordero Buenas tardes com'è da Malta Fabio? facci sapere anche a Malta com'è il tempo salutiamo anche Raul Zavala andiamo a vedere il Charleston amici nel profilo siamo lì all'entrata con la mia principessa stupendo Nancy comunque Nancy questa settimana tempo permettendo verremo sia ad Altavilla che a Monreale quindi non mi manca poco ci avete chiesto in tanti quindi è giusto che soddisfiamo anche i nostri amici della pagina passeggiamo da qui ragazzi così almeno vediamo anche il mare da vicino ci avviciniamo al Charleston grazie Stefano insomma ragazzi spero come sempre che le immagini siano nitide e che vi arriva un video in alta definizione stiamo cercando comunque di migliorarci nei prossimi giorni dovremmo avere ancora una qualità migliore anche su Facebook quindi grazie a tutti per il suo sostegno e grazie a tutti davvero per condividere insieme a noi le bellezze della nostra Sicilia salutiamo anche Emanuela da amico Mary grida dice la mia bellissima parola un abbraccio forte a tutti i parlamentari dai miei parenti ciao Mary salutiamo anche Marino Serafini venerdì sono a Palermo di mattina sono a casa insomma un cielo incredibile oggi pomeriggio anche da quella parte immagini mille grazie Stefano entro di niente ragazzi non c'è traccio sicuramente si collegherà stasera ragazzi si è preso dagli impegni lavorativi quindi comunque ci sta pure tra l'altro stamattina ci ha regalato due piccoli scorci sulla Svizzera stavo andando a Berna al lavoro quindi comunque ci ha fatto vedere un po' di neve ho scritto Anthony grazie Giussi amica mia intanto ragazzi andiamo in direzione Charles ne salutiamo anche Liliana Magaraci buon pomeriggio Giussi e Marcello ci ci si vede benissimo grazie se vieni quando non ci sono ci rimango male eh Nancy facci sapere quando allora sei ad Altavilla così veniamo un altro giorno cioè veniamo il giorno che tu sei lì insomma bellissimo grazie grazie a Antozarcon è sempre una cartolina grazie ragazzi mi fa piacere che si veda bene andiamo da quella parte domani vediamo ragazzi se domani riusciamo e in base anche agli impegni che abbiamo lavorativi ragazzi facciamo una bella panoramica ciao Dani buon pomeriggio saldiamo amica Daniela di Cesareo faccio vedere un po' la situazione guardate anche nello sfondo guardate che colori ci sono ragazzi meravigliosi saldiamo anche Massimo De Luca ciao Massimo ragazzi vi raccomando andate a rivedere anche il video che abbiamo fatto ieri a Terrasini e a Cinisi abbiamo fatto due video ieri quindi vi aspetto anche lì scriveteci nei commenti cosa ne pensate abbiamo visto anche l'albero di Terrasini grazie Mary grazie ragazzi insomma queste immagini sono per tutti voi quindi grazie a tutti voi che ci state dando una mano nelle condivisioni salutiamo anche Giovanni Mangiavillano da Montallegro è starmoso il cielo thank you Isa grazie vediamo anche Angela Pietro Sgroi un bel tuffo eh ragazzi 13 gradi ci sono Stefano diciamo per i più audaci ragazzi per i amici che magari arrivano dal nord si potrebbe anche fare salutiamo anche la nostra Gloria d'Italia ciao Gloria buon pomeriggio andiamo in direzione Charleston ragazzi purtroppo vado un po' di fretto oggi pomeriggio perché dopo vado al lavoro quindi era una piccola live ragazzi per farvi vedere di nuovo Mondello che comunque c'è una giornata spettacolare e comunque farla vedere anche a tanti amici della pagina che sono entrati nella pagina ieri o l'altro ieri quindi insomma ragazzi o comunque negli scorsi giorni a maggio mi tuffo grande Nancy sentiamo anche Cristiana rumori andiamo a chiudere la ragazzi andiamo a chiudere la Charleston si Gloria giornata bellissima siamo sui 13 gradi come dicevo prima si sta abbastanza bene c'è solamente un leggero venticello che ogni tanto disturba un po' però niente di chiaro considerate comunque che siamo in riva al mare ragazzi quindi in centro penso che si sarà benissimo perché non c'è neanche il vento lì grazie grazie Stefano si stasera dovremmo essere con Mimmo ovviamente mando un saluto al mio amico Giovanni Busalacchi alla nostra Giusy De Gregorio e al nostro Anthony che in questo momento sta lavorando quindi un saluto a voi amici andiamo a chiudere qui ragazzi saluto anche Francesco Amato e Maria Gabriella Randazzo anche qui ragazzi un altro aereo sopra di noi penso che siamo uno di quelli privati guardate che cielo ragazzi spettacolo Giovanni ti vogliamo in diretta grande Stefano grazie Gloria grazie va bene ragazzi allora noi chiudiamo da qui aspettami vicino al Charleston e chiudiamo ci vediamo poi stasera in diretta saremo con Mimmo grazie Carmela quindi vi raccomando ragazzi vi aspettiamo stasera in diretta su Panorama Italy vi raccomando cliccate mi piace alla pagina grazie grazie Gaetano un saluto a voi amici chiudiamo lì di fronte ragazzi se andiamo a chiudere dal Charleston a più tardi Stefano grazie speriamo che stasera ragazzi speriamo che stasera il tempo sia buono ma credo di sì dai credo e spero di sì questo è il piazzale antistante del Charleston adesso vi faccio vedere il Charleston e chiudiamo da qui ragazzi chiudiamo da qui c'è anche una bella luna ragazzi nonostante ci sia il cielo praticamente ancora a giorno salutiamo anche Monica Vacca grazie Emanuela grazie vi raccomando lasciate mi piace alla pagina siamo anche su Youtube vi raccomando sempre la pagina Panorama Italy salutiamo anche Savalli Andrea Salvatore che ci sono da Melfi ragazzi chiudiamo da qui guardate che spettacolo c'è anche la luna sopra ragazzi difficilmente si trova quindi vi raccomando fate uno screen ragazzi e ci taggate su Instagram nelle storie ovviamente ragazzi buona continuazione di giornata ci vediamo stasera su Panorama Italy sempre intorno alle ore 23 23.30 saremo con il nostro amico Mimmo stasera quindi vi aspettiamo in tanti un bacio a tutti ragazzi da Mondello e dal Charleston per oggi pomeriggio è tutto grazie grazie